Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Ovviamente vi auguro una buona domenica, cosa che non è per me Perché ragazzi? Perché ovviamente vi volevo mandare in streaming già da ieri Una partita su Titanfall, in streaming vuol dire che voi potete vedere la mia partita Cioè vabbè lo sapete tutti, lo streaming è arrivato con Twitch Twitch è stato messo su Xbox One con la possibilità di trasmettere in diretta le vostre partite Non avendo ovviamente io un grande upload, magari ce l'ho se non sbaglio quasi un mega 091 dovrebbe essere Che non è male ragazzi alla fine per trasmettere, non trasmetterò in full HD Ma almeno trasmetterò in 480 o 360 quello che cazzo è E almeno vi avrei reso partecipi della partita perché voi avreste potuto vedere la mia partita in diretta Mi avreste potuto cercare su live, cioè in live commentando Io vi avrei potuto rispondere tra una pausa e l'altra della partita Eh ragazzi vi faccio vedere cosa mi capita ovviamente Xbox Xbox Trasmetti 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 Oh Adesso vediamo quanto tempo ci mette a caricare la paginetta Twitch Ok Spiacenti Olè Grande così Vai così Errore di trasmissione Spiacenti si è verificato un problema con la trasmissione Io ovviamente ragazzi vi faccio vedere cosa mi succede Riprova E non mi dà la connessione Cioè non mi dà la connessione Non mi dà la trasmissione Perché io provo a fare in velocità Inizia la trasmissione e non me la fa fare Peccato Quindi ragazzi Ho questo piccolo problema che non posso trasmettere su Twitch E altrimenti vi avrei potuto dare un gameplay ogni giorno Ogni santo giorno Magari Avremmo potuto giocare in diretta insieme Perché se vedete gli slot magari di Titanfall sono 5 1, 2, 3 No sono 6 No 5 Io Più altri 5 Quindi ragazzi Avremmo potuto giocare insieme Invece non posso farlo perché ho questo cazzo di problema Ditemi se potrebbe essere un problema di Nat Perché mi sa che ce l'ho moderato Non lo so Poi Un'altra cosa Se avete anche voi questo problema Ditemelo pure Scrivetemelo giù nei commenti Se sapete come risolverlo Scrivetelo giù nei commenti Perché ve ne sarei veramente grato Mi sto un po' rompendo i coglioni Infatti di questa cosa Perché l'ho già provato per due giorni Per due giorni Non mi stava funzionando E mi stava un pochettino infastidendo Quindi ragazzi Da cura di notte è tutto Scusatemi per questo video Diciamo abbastanza corto Spero che possa tornare utile alla fine Per chi avesse questo genere di problema E noi ci vediamo alla prossima Quindi Bella raga E noi ci vediamo alla prossima E noi ci vediamo alla prossima Grazie a tutti